Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, da un'idea di Gonagai, il Mazinga Z, edizione a Shet, uscita numero 22, l'altezza del Mazinga Z sarà di 75 centimetri, completo del centro ricerche fotoatomiche dove al punto più alto misurerà 90 centimetri. Andiamo subito a vedere quello che troviamo. Ringrazio tutti i miei iscritti, grazie a tutte le persone che mi visualizzano. Siamo arrivati e dico volutamente siamo, e uso questa espressione plurale, perché siete voi parte integrante del canale. Grazie di cuore ragazzi, siamo arrivati a 4.300 iscritti. Bellissimo, vi rendete conto? Per uno che non mette neanche le musiche e chi l'avrebbe detto? Io non ho di sicuro ragazzi, non ho di sicuro. Però andiamo avanti, dai, se volete farmi continuare andiamo avanti, iscrivetevi. Per le persone invece che mi guardano ma non si iscrivono? Ragazzi, l'iscrizione non costa nulla, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati sui miei nuovi video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Eccoci qua. Questa è metà dell'avambraccio sinistro, zinco pressofuso. Abbiamo un po' di difetti. Io chiedo la sostituzione. Non so se li vedete, vi li ho fatti vedere meglio nell'unboxing. Comunque è pieno di puntini e sinceramente un pezzo così a vista deve essere uno specchio, non deve avere difetti. Poi abbiamo questi, che è la giunzione sinistra in policarbonato. Questi invece sono gli alloggi dei magneti, il materiale in policarbonato. Questi sono i due magneti. Qua abbiamo stampata una lettera S e c'è un motivo. Sono spiegate benissimo nelle istruzioni, queste attenzioni. La S va messa poi, quando andremo a montarlo, verso l'esterno dell'avambraccio. Boccola in silicone, sempre per lo sgancio rapido, e una serie di viti 0,7. eccola qui. Qui il filetto non è stato creato. Vediamo un po'. Provo ad avvitarne una senza lubrificante. Vediamo cosa succede, altrimenti io faccio vedere alle persone che mi vedono per la prima volta quello che faccio. E poi, se volete ripeterlo anche voi lo fate, perché io sono solito crearmi i filetti per evitare di fare possibili danni. Vediamo un po'. No, non serve. Il metallo è abbastanza morbido. Non serve neanche mettere il lubrificante. Va bene così. Allora, prima cosa, prendiamo questo pezzo. Eccolo qui. Perfetto. Prendiamo la boccola e la andiamo a mettere. Aspettate, perché qui le istruzioni non è che siano spiegate così bene bene bene. Allora, prendiamo questo pezzo. Mettiamo la boccola in questa maniera. Chiudiamo. la boccola rimane così incastrata all'interno. Prendiamo adesso il nostro avambraccio. Eccolo puntiamo le prima tutte e quattro e poi le stringiamo solo alla fine. Ricordatevelo. questo è inserito bene. Controlliamo. Ok. Va bene così. Avvitiamo. controlliamo. Qua batte perfettamente bene. Di qua anche. Ok. Stringiamo. sinceramente la prossima volta però mi creo il filetto perché io mi trovo meglio. si è sempre a rischio di poter spezzare la vita all'interno in questa maniera. All'inizio sembrava entrasse bene ma poi diventa molto duro. Controllate che non vi sia gioco. Perfetto e non ce n'è. Adesso andiamo a prendere queste semplicemente con il dito pollice e dito inci le facciamo girare su se stesse e si sganciano. Se ci sono difetti dettati dal punto di giunzione dove erano attaccate e li eliminiamo. Forse non serve neanche ma mi costa così poco e lo faccio. Ok. Adesso dobbiamo andare a mettere le calamite. fatemi dare un'occhiata. Ok. Qua. proprio lì. Do un'altra controllata ma vanno qui. E questo si mette così. deve essere messo così. Proprio in questa maniera. Non c'è il destro e non c'è il sinistro perché uno va bene dalla parte e dall'altra. Ve l'ho già detto. ok. Però qui il filetto io me lo creo. Faccio vedere. Il filetto qui me lo creo perché a me non piace lavorare così. mamma mia che calamite ragazzi. Va bene. La sfrutto dai. La sfrutto così. Mi tiene ferma questa. Ecco. Con la stessa vite mi creo tutti e due i filetti. Vedrete come si avviterà molto più facilmente e senza alcun rischio di rottura della vite all'interno. Questi sono i primi due magneti che andiamo a montare. Perché ovviamente non possono bastare solo due magneti. e quindi ce ne saranno sicuramente altri due poi da montare da quest'altro lato qua. Puliamo. Andiamo a levare eventuali residui di lubrificante. Ecco qua. Poi prendo il primo. Sono veramente potenti. Ecco qui. Guardate. L'importante è che voi mettiate la s verso l'esterno. ecco qua. qui nel disegno ve la fa vedere stampata correttamente così in verticale ma non vi preoccupate. L'importante è che la s sia messa così. Adesso vado a mettere la mia vite qui all'interno e vado a fissarmi il primo magnete. vediamo un po' eh. spero che la vite entri ma sinceramente forse andava messa prima anche se non ce l'hanno detto ma vediamo. sono molto potenti ma ce la facciamo dai. Ecco qua. Perfetto. guardate. S da questa parte. L'accompagnate con il cacciavite altrimenti faticherete parecchio perché vi si attacca dappertutto. ecco qui primo montato la stessa cosa dall'altra parte la s dalla parte esterna inserite così e pressate ok ok sicuramente crearvi il filetto vi aiuta non poco e vi aiuta tanto il consiglio di farlo e anche per quello che vi ho spiegato non correrete rischi di possibili rotture non vi preoccupate se si è sfilato perché questo poi lavorerà da questa parte e non da questa quindi non potrà uscire dalla sua sede mi fa tribulare un po' ma ce la faremo ce la faremo ce la faremo vedete io non mi arrabbio mai può succedere anche a voi dovete sempre stare calmi tranquilli non dovete preoccuparvi l'altro si è agganciato meglio questo entra più facilmente ecco perché tende a venire via facciamo così inseriamolo così speriamo che adesso non se la tiri la vite andiamo a metterlo perfetto rimane fermo sì pericolo non ce n'è non può scappare ecco il montaggio è terminato perfetto è finito così sì adesso piano piano prendo quello che ho montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo rimanete con me perché non metto neanche pausa il video guardate che spettacolo guardate che meraviglia tutti i fili che ci sono sotto per tutte le differenti funzioni e ce ne sono tante questo andrà poi messo qui ecco qui io vi dico subito che andrò a fare una modifica perché c'è non so se ce la farò ma c'è qualcosa che che non mi piace vedremo se questa spalla riesce a stare su bene se mi cade giù interverrò con una modifica che poi vi farò vedere vedete vediamo dai tutte cose che si risolvono facilmente non è un problema questo poi andrà così o meglio così che bello che bello cosica butto in piedi cosica butto seduto che poi sarà messo all'interno dell'over builder eccolo qui queste sono le due ali basculanti dell'over builder all'interno ci sarà un motorino le liche gireranno si potranno montare in tutte e due le maniere ma soltanto una è quella corretta sicuramente ci verrà spiegato ma non vi preoccupate comunque io mi ricorderò di dirvelo girano ovviamente perché c'è il motorino all'interno queste poi si potranno chiudere per poter consentire all'over builder di entrare all'interno della testa che bellezza ragazzi non così così perché questa va verso il basso l'erica deve andare verso il basso cosa c'è rimasto ancora? nulla ho preso tutto c'è ancora questo quando lo montiamo finché non andremo a fissare la spalla qua al giunto bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo vi do appuntamento al prossimo video che seguirà il numero 23 del nostro Mazinga Z mi raccomando non mancate iscrivetevi attivate la campanella e se avete piacere di darmi un'ulteriore mano condividete i miei video nei gruppi dedicati grazie infinite ragazzi abbiate cura di questo perché sarà poi il porta batterie definitivo che verrà messo all'interno del torace per garantire le funzioni elettriche del nostro robot un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari ciao a tutti al prossimo video